eccoci qui ciao a tutti caciotti ciao 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 e qui siamo Brent, Surreal Power e Artifex MC è pronto com'è pronto? non puoi dire che è pronto da mangiare no? si è pronto cosa c'è da mangiare? pasta con pasta pasta con... no pasta ok ho capito da rosy ok caciotti eccoli eccomi qui eccomi qui ho solo due cuori ma non fa niente ma tu sempre... ma tu sempre a be... cioè no eh? cioè le mie video no eh? cioè porco dio ma porca puttana hanno delle tras... porco dio zitto mentre parlo con Artifex lol bla 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 aggiornamenti della giungla dimmi solo questo se ci riesci oh e mi ha preso! mi ha preso! oddio sveglia ma che ne vengo! oh no! forse ti ho visto! ecco no! oh no! oh no! oh no! oh no! sono in due! sono in due! attento che prima mi hai avuto da dietro ma ho pensato fossi te per il momento ma m'ho fatto una paura pervertito 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 no mi ricrascia Minecraft quello zozzone c'è ma porca puttana com'è possibile che mi crascia mhm da chi? una madonna eh vedo Artifex oh cazzo c'ho un enderman dietro di me le... dove? un creeper oh fuck! oh cazzo! no 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 ammazzalo senza farlo esplode se no questi si accorgono che stiamo qua ammazz porco tt togliti che c'ho la spada porca miseria io ce l'ho, è più potente oh oh! porco tt oh fuck! ingraziatemi ti son andato da dietro ma sono solo io che mi sto tipo fappando un pezzo di legno e io mi metto la zucca così mobo non mi possono attaccare c'è davis sotto di me oh aspetta aspetta davis sono qui sono qui aspetta che torno indietro oh fuck! ma porca merda un cane è un altro cane un po' di cobbels in qualcosa qualsiasi cosa mi sa che li vedo mi posso dire dove sono mi sa si si perchè sono in quattro? o fuck? eh perchè siamo con tre contro quattro ah! eh ma non vale noi avevamo una... se l'ha capito mo no no ma non vale tre contro quattro perchè uno in uno sconto diretto mi conosce sempre loro alla buonora e per questo c'è una vita in più no genio eh prendo due due test io sto sotto no ma c'è no ah i nemici però ora si rivedo un regalo alla valenta c'è un bellissimo pacco di btnt ah ok sono sotto di me ma c'è una roba illuminata sono sotto di me dov'è che sei? ora ti amo sopra di me sono sopra di me e dove eri? sei stato ucciso li vedo li vedo li vedo ma ti ho deciso vabbè per me la serie è finita cioè anche per surral e anche per artefacts abbiamo perso in teoria vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ok mi suicido no forse no ok forse si spero come spero sui fiat ecco penso che questo io vedo della roba illuminata secondo me stanno laggiù intanto adesso non gioco più quindi vado giusto a trollare ma stai ancora registrando sì sì io sto registrando ok adesso fai ancora una c'è troppo in mezzo vabbè oh ti testi stupida scala troppo un'altra whatsapp sei bene sì ma ma sta bene eh eeeh ogni tanto venga controllato chi lo cricene come sa è questa la seguita lo sai che succede mia mamma pensava fosse diventato mazzo ehhh e beh a forza di urla oh fuck insomma sai com'è una crescita nervi così cittadina stupendo ah sì ah sì eh sì questa è nella nel remix rimixoso il fumo de lo gentile ooongyy jagu sodello No, 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 no 54 minuti Azzd, il fumo uccide letteralmente le urla di Surgeal dal vivo sono ancora più più potenti Grazie a tutti